Mettere insieme tutte le forze presenti in provincia per prevenire e orginare il rischio incendi nell'Agrigentino. E' nato con queste finalità l'incontro di questa mattina promosso dall'Ufficio di Protezione Civile della provincia regionale di Agrigento. Questa riunione deve vedere quali forze occorreranno per prevenire qualsiasi tipo di incendio. Il problema è che secondo me, malgrado gli atti di coraggio che possono avere, non possiamo prevenirli tutti. Sarà importante comunque aumentare il personale che ci dovrà interessare a queste situazioni. Stagione estiva ormai alle porte che quest'anno vede il rischio incendi tutt'altro che diminuito. L'inverno è stato pesante perché è stato molto piovoso e quindi ha fatto crescere parecchio l'erba, le erbacce, il sottobosco. E quindi ci aspettiamo che necessariamente se gli incendi si sviluppano saranno sicuramente incendi cruenti. Avremo molti più incendi dell'anno scorso, saremo impegnati sicuramente di più. Tranne che qualcuno ci aiuti attraverso la bonifica dei campi incolti, attraverso la pulizia dei fondi. Solo in questo modo, cioè facendo una grossa opera di prevenzione, si può ridurre il nostro impegno.